Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questa seconda partita, in questa seconda serie di match della Zota Cup, stagione 1 2014, winner bracket round 1, o sei round 1, era segnato così, sempre first contro Yun, Yun in vantaggio per 1 a 0 dopo un match basato sul Arras continuo con Blatt, Ling e Idraliske, non tanto sui potenziamenti, first che per difendersi da tutti questi attacchi ha dovuto rinunciare ai propri potenziamenti e chiaramente è rimasto per tutto il tempo sulla difensiva e alla fine ha perso, quindi ora siamo al secondo match, match point per Yun, match della disperazione per first, vediamo chi avrà ragione se la sicurezza di avere comunque un match bonus da poter perdere, oppure la disperazione di dover vincere a tutti i costi questo match e anche il prossimo per sperare di passare, mappa è una delle nuove mappe che inserite nella nuova stagione di Starcraft, mappa a 4 spawn, queste qui, e credo che sia abilitato solamente il cross position, perché se ricordo bene dalle mappe di Wings of Liberty ancora, c'era una mappa dove era abilitato solo il cross position, in quanto le posizioni vicine, tipo questa e questa, avevano la terza base comunicante, infatti adesso vi dirò meglio se la incontrerò in ladder, se questa cosa è vera, fatto sta che finora i nostri uniti stanno in cross position, quindi ok, abbiamo un Nexus first per first, gioco di parole, mentre abbiamo un Achery first e poi dopo un triple Achery per Yun, il quale arriva fino addirittura a 18 con i droni per poi buttare giù la propria Achery e a questo punto metterà giù la pozza, first che vi arriva a scautare, intanto ci lascia un osservatore, ah lasciamo probabilmente la partita, non in questo momento, pozza buttata giù, first arriva, vede la pozza, stessa apertura della scorsa mappa, ma la scorsa mappa era più piccola di questa, probabilmente si è accorto dell'apertura a doppia espansione di Yun, perché questa pozza aveva poca vita quando è stata vista, subito dopo abbiamo un doppio gas per Yun e un portale, regolare subito centro cibernetico, questo doppio gas immediatamente saturato mi fa pensare a una possibile apertura ad oracoli, oppure a dei blink stalker, oppure a IDT come nella scorsa partita per cercare di limitare la terza base, però qui la distanza è maggiore, ci sono due torrinaga di mezzo che possono fornire visuale, nel frattempo Yun non prende gas, si dedica unicamente a dronare e a, per rinvoltire la sua naturale, vediamo quando sceglierà di prendere il gas, nel frattempo si completa la mutazione del drone in vivaio, mentre vediamo che di qua c'è un piloncino abbastanza nascosto da parte di, parte di first, che a questo punto mi pare che voglia proprio andare, o di, eh si, o di, si, stavo per dire che voglia andare di IDT, ma qui può benissimo saltare fuori anche un stargate con un oracolo, vediamo cosa salterà fuori, salta fuori il concilio del crepuscolo, quindi si, andare di IDT, anche perché lo stargate molte volte lo si costruisce o in base o a volte magari qui per averlo il più proxy possibile, nel frattempo ci sta fuori anche la terza regina, regine che iniziano subito a mettere in produzione il creep, non ci sono ancora gas per Yun che probabilmente, ecco prendevano un doppio gas nella naturale e vediamo se prenderà qualche gas anche nella main, no, quindi decide praticamente di, quasi, portare quasi a saturazione la naturale, poi di prendere i gas, nel frattempo con il concilio del crepuscolo completato, scendono altri tre portali, a formare un muro qui davanti, mentre la ricerca del portale dimensionale ancora abbastanza di indietro, no, salta fuori il blink, qua ci sono degli draglink che sono entrati in base ma non faranno tanti danni, ecco fatto, no, di parte la ricerca del blink, quindi ci saranno dei blink stalker in arrivo, nel frattempo vediamo i gas continuano sempre doppio gas, non ce ne sono altri, colonna delle blatte in arrivo, speed per i Ling che non viene ancora toccata ma forse non c'è ancora il gas per poterla fare, ho parlato troppo presto, nel frattempo ho conteggio delle regine, quattro regine, numero ottimale per cominciare a espandere il creep in giro per la mappa, tre portali completati da parte di first, quasi in tempo per avere la ricerca del portale dimensionale, altri due in arrivo, quindi cinque portali, soltanto non ci sono gas nella naturale, quindi sta bancando minerali per poter tirare fuori i blink stalker, vediamo qui uno stalker che viene fatto oggetto di attenzioni da parte di questi lagling, ma c'è anche il nucleo della nave madre a fornire supporto, speed per i Ling che arriva in questo momento insieme anche alle blatte e alla tana, macro aceri per i uno per aumentare la produzione delle larve, abbiamo qui un doppio gas nel naturale che poi verrà risaturato, abbiamo qui un cospicuo numero di stalker che si sta avvicinando dalla base, Ling e Blatte che vengono prodotte immediatamente con fuga da parte di Yuno che deve richiamare tutte le regine raccolte per contestare questo attacco, pula tutti i droni per tancare il danno degli stalker, regine da un lato, droni zergling dall'altro, la speed per Ling è abbastanza in ritardo, probabilmente dovrà affaticare ancora un po' Yuno per avere la speed per Ling continua a tirare fuori sia zergling che Blatte, non c'è nessun distaccamento di forse verso la terza continua questo attacco da parte di Yuno che ricordo che avendo il blink può tranquillamente uscire dall'accerchamento di Ling, vediamo incremento metabolico quasi completato per Yuno mentre sta arrivando anche la ricostruzione neurale per le Blatte, vediamo supply molto più alti per Yuno ma sono tutti i droni che non sono eserciti, vediamo Ling che arrivano da davanti e da dietro, eserciti che continuano a stuzzicarsi di volta in volta, arriva anche qualche zelotta per andare a contatto con Ling e fare dei discreti danni, decide in questo momento di ingaggiare, è bellissima la micrata di First che in pratica non perde stalker, perde solamente lo scudo il quale poi si può rigenerare, i zelotti che vanno a contatto con le Blatte vengono evaporati, le 4 regine sono, non le regine abbastanza al limite, viene prodotta una quinta, una sesta, una settima regina, Yuno abbastanza pressato da questo attacco sta difendendo con le unghie e con i denti, stanno arrivando anche un sacco di altri Ling che vengono fatti abbastanza in ritardo, un'unità che purtroppo arrivano alla spicciolata per Yuno quindi vengono macellate piano piano, Yuno è costretto a dare il GG su questo attacco di First che si porta a casa la partita, vince la disperazione e First si porta sul 1 a 1, bellissima la mossa di andare di Nexus First e poi di Blink Stalker all in per per passare per First, leggermente infelice la scelta di Yuno di andare di triple aceri subito ha preso forse un po' troppo tardi i gas se avesse avuto la speed per il Ling prima o magari qualche avvisaglia di questo attacco però questo concilio del Gripulcro è stato nascosto egregiamente quindi Yuno a meno che non l'avesse scautato in questa zona non avrebbe avuto nessuna avvisaglia dell'attacco magari un overlord in questa zona non vedendo i due gas avrebbe potuto intuire qualcosa ma la mossa di First è stata vincente in questa partita bene ragazzi, First si porta sul 1 a 1 quindi si andrà al match numero 3 per sapere chi accederà alla fase successiva del torneo se il video vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi al canale e condividete con i vostri amici indirizzo e mail e pagina di Facebook sempre in descrizione per lasciarmi le vostre partite e i vostri commenti e noi ci vediamo al prossimo video Grazie